come mai hai scelto di fare l'obbiatore di coscienza volete che vi faccia un caffè prima no grazie no allora come mai hai scelto di fare l'obbiatore di coscienza diciamo che l'uomo comune serve la patria il filosofo trova la patria in ogni luogo e il saggio e straniero ovunque vada che cosa studi filosofia due uomini stanno violentando la tua ragazza tre uomini in che senso non ti preoccupare solo un test non succede davvero è solo un test tre uomini stanno violentando la tua ragazza quattro uomini tu hai la pistola il pezzo cosa fai cosa fai non la usi io non ho la ragazza tua madre tua sorella mia madre o mia sorella non importa è indifferente cosa fai non la usi quattro uomini chiamo voi bravo e se noi non veniamo che fai non la usi la pistola che fai che fai come non venite perché non venite perché non veniamo che fai quattro uomini che l'ha violento e quattro uomini che urli quattro uomini che razzi e la pistola forza sono violenti hai la pistola bravi anzi di me hanno il cielo di sangue ma stiamo a fare i giochetti stiamo a fare